oa bella bellissima serie di netflix c'è praticamente pregri è la protagonista è una ragazza di origini russi abbastanza alto locata come estrazione figlia di padre diciamo ora morta era scomparso in tempi con della bambina della madre non se ne parla praticamente per la sua crescita subisce varie situazioni in età infantile quant'altro che all'inizio è cieca mi va non mi ricordo se è cieco lo diventa comunque poi lo diventa in seguito è un'esperienza pre morte poi poi conosce questo dottore questo spazio questo dottore pazzo questo scienziato stravagante che fa esperimenti con persone ragazzi che hanno avuto nd e near death experience quindi esperienze pre morte e quindi anche lei finisce in questo bunker tutti i ragazzi di questo tipo però sono tipo messi in gabbia fatto particolare che è proprio lei che l'aveva chiesto mentre nell'altro casi li ha cacciati e li aveva indotti appunto in questo bunker quindi succedono cose strane la relazione tra mondo neri che mondo reale elementi di castaneta presenti questo intreccio tra la vita tra il racconto che lei sta facendo che preghi sta facendo della sua storia e poi le immagini del racconto stesso dello sviluppo delle degli eventi quindi è bello sicuramente qui in basso ti metto il link alla prima la prima stagione poi ci sarebbe anche una seconda a me non tanto convinto quindi solo la prima mettimi like se ti è piaciuto se è stato utile questo lavoro ciao e alla prossima